Tutto ha un senso, anche il male. La sedicenne Anna Lou, brava ragazza dai lunghi capelli rossi, appartenente a una confraternita religiosa, scompare dal paesino montano di Aveschaux. A occuparsi del caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale da difendere e una propensione a far leva sui mass media. E dato che nel paesino si sono appena trasferiti un professore di liceo con moglie e figlia, chi meglio di un estraneo può candidarsi ad essere il sospettato ideale? Donato Carrisi esordisce alla regia con l'adattamento di uno dei suoi romanzi di maggiore successo, La ragazza nella nebbia, firmandone anche la sceneggiatura, e fa dire allo scrittore che la prima regola di un grande romanziere è copiare. Fedele al suo motto, procede ad attingere a piene mani a molto del cinema che l'ha preceduto. Da Lynch a Fincher, passando per Tornatore e Alfredson. Cita anche molte serie televisive, a cominciare da Fargo, e struttura la sua narrazione più secondo le regole del piccolo che del grande schermo. Buona è la capacità compositiva delle inquadrature e la recitazione di alcuni membri del cast, in particolare di Alessio Boni, che meritava da tempo l'occasione di mostrare le proprie capacità. Lucrezia Guidone nel ruolo di sua moglie e Thierry Toscan e Daniela Piazza nei panni dei genitori di Anna Lui. a tutti i genitori di Anna Lui.